buonasera a tutti e a tutte da andrea cartotto vediamo in questo video corso come sia possibile accedendo ed aprendo la nostra classe su piattaforma ab fondazione franchi ricavare un link di invito da trasmettere alle famiglie dagli alunni corto e parlante cioè un indirizzo che non sia quello consueto riportato quando entriamo nella classe ma che sia facile eventualmente da digitare anche da parte degli alunni se da soli tramite browser lo ricordo chrome o firefox allora io qui naturalmente prendo come istituto di riferimento l'istituto comprensivo quindi l'istituto comprensivo cavur nel caso di specie dove abbiamo tutte le classi allineate il doppio trattino indica ovviamente che la classe non è operativa se ci fosse il triangolo cioè il simbolo del play allora questo potrebbe indicare due contesti c'è la lezione in corso o abbiamo dimenticato di chiudere la stanza allora andiamo a cliccare sulla prima classe qui in ordine di apparizione il link di invito da trasmettere alle famiglie è già qui quindi lo vediamo sotto invita partecipanti nella normalità io che cosa vado a fare clicco su copia l'indirizzo in automatico diviene selezionato in azzurro posso poi incollarlo mediamente dove tramite registro elettronico per una diffusione capillare o tramite eventuali altri contesti e piattaforme purché normati a questo punto mi serve una risorsa che io ho già censito qui sul mio canale youtube trainer andrea che si chiama bit lie quindi una risorsa che consente di comprimere personalizzare qualsiasi url e allora come vedete in alto accanto alla scheda di hub aule ho aperto la scheda di bit lie bit l y qui ho già effettuato l'accesso vi mostro clicco su logout apposta per simulare un accesso ospite e normalmente ci troviamo qui questo è l'accesso ospite la prima volta per chi non si fosse mai registrato corre cliccare sign up indicando un indirizzo mail ed una password specifici altrimenti se abbiamo già effettuato l'accesso clicchiamo su log in clicchiamo ancora sul pulsante google ad esempio ed inseriamo l'indirizzo email di riferimento che può essere un personale gmail come in questo mio caso o un account istituzionale della google suite o ulteriore piattaforma vedete hop nel frattempo compio questo gesto atletico che per il regolamento europeo per la privacy e non solo google richiede la famosa autenticazione a due fattori cioè in realtà ha richiesto e ho preso in mano il mio smartphone per questo di confermare che il mio sia un accesso volontario potrebbe capitare anche a voi a questo punto eccoci nel cruscotto principale di bit.ly guardate com'è semplice l'operazione io ho copiato qui siamo sulla scheda di aule l'indirizzo della mia sezione che è la prima a irole lo vedete al fondo sono in bit.ly clicco su create pulsante arancione vado ad incollare in questa casella dove il cursore è lampeggiante l'url quindi clic tasto destro clic tasto sinistro su incolla dopodiché o clicco create o attendo in questo caso se osservate l'operazione è avvenuta in automatico e in alto qui abbiamo il title cioè un campo titolo che si può lasciare così o personalizzare consiglio in questo caso di annotare come titolo classe seguita poi è dalla classe di riferimento nel mio caso uno a ai role poi come vedete da ospiti non avremmo potuto io mi porto in coda alla sequenza di lettere e numeri cancello tutto ciò che c'è dopo il bit.ly e vado a scegliere una denominazione finalmente semplice da dettare da scrivere da pronunciare bit.ly slash uno a ai role in questo caso con la doppia vocale poi clicco su save attenzione qualora il sistema dicesse che quella possibilità di accorciare risulti già occupata è sufficiente inserire ad esempio in più la denominazione dell'istituto ma vedete che in questo caso non è stato necessario chiudo con un clic su x ed ecco fatto io ho sempre comunque l'url completo disponibile ma ora guardate come è divenuto semplice bit.ly slash uno a ai role questo è l'url breve ora simuliamo di essere una famiglia cioè simulo di aver aperto il mio browser qui sono con chrome guardate io vado sui tre pallini in alto a destra clicco su nuova finestra di navigazione in incognito così da poter essere un ospite come accade di regola alle famiglie a questo punto ho il mio indirizzo clicco su copy qui siamo in bit.ly io posso poi tranquillamente riassumere in un documento di testo tutti gli url brevi delle classi così da avere uno storico depositato tendenzialmente presso l'animatore digitale segreteria o dirigenza scolastica il fiduciario e così via a questo punto vado a recuperare la mia finestra in incognito cursore lampeggiante tasto destro clic tasto sinistro su incolla invio sulla tastiera e come vedete il risultato è lo stesso cioè sono entrato nella classe non mi resta che inserire il mio nome come alunno per poi partecipare l'alunno è marco c punto ad esempio cliccando su partecipa correttamente questo è da sempre uno dei punti di forza e di reale sicurezza di hub mi viene restituito questo indicatore il meeting non è ancora iniziato riprova tra poco ecco che con hub da sempre non si possono verificare intrusioni o comunque disturbi alla lezione in corso spero dunque di essere stato utile a tutti i colleghi e le colleghe e non mi resta che augurarvi buon pomeriggio e buon lavoro ciao a tutti e a tutte da andrea cartotto